Dino Zoff Quando non dirlo è come dirlo E noi lo abbiamo sempre amato Anche, ma non solo per questo Io sono Malcom Pagani E questo è Dicono di Te Un podcast prodotto da Coramedia e Tender Stories Tuo padre diceva Chi tanto parla poco sa Tu sei vissuto Hai vissuto i primi anni della tua vita A Mariano del Friuli In una casa su tre piani Come funzionava un tempo Al terzo piano c'era il granaio Che ti spingeva a qualche curiosità E comunque era una vita fatta Più di silenzi che di parole Più di gesti che di protagonismi Che ricordi hai tu Dei primi anni della tua vita? Dei ricordi bellissimi Perché era la fanciullezza del paese Quindi la libertà assoluta Di spostarsi Di andare a giocare Di giocare per delle ore Eccetera Ciò che non è possibile In una grande città adesso Per i pericoli che ci sono Eccetera Quindi sotto questo aspetto Veramente è stata una fanciullezza Splendida Con gruppo di amichetti Che si giocava dopo le elementari Per cinque, sei, sette ore Insomma non è che Da l'una alle sette di sera Secondo i momenti I giochi Potevano essere calcio Nuoto Banditi E pelli rosse Tutto questo Quindi sotto questo aspetto Veramente L'infanzia È straordinaria Hai detto una cosa molto bella Tra le righe La fanciullezza del paese Quando tutto sembrava ancora da ricostruire Dopo la triste avventura bellica E quindi diciamo Il paese era animato da grandi speranze Anche da grandi ideali Il Friuli era una terra di confine E tuo padre faceva il contadino Al di là di questi giochi Come te la ricordi la vita in campagna La vita semplice? Beh Non poteva essere complicata Lo era complicata Per avere Il necessario Per vivere Discretamente Ecco quindi Un lavoro Parlare adesso Di quei lavori Di quelle fatiche Insomma Non sono credibili Il giorno d'oggi Che uno dice Ho fatto mezz'ora di più Eccetera Sono stanco Eccetera Erano tempi diversi Dove la fatica Non era messa in conto Si doveva fare delle cose Si facevano delle cose Non c'era Non c'erano possibilità diverse Ecco Non ti aggrappavi a nessuno Dovevi produrre tu Quello necessario Per sopravvivere Quindi il lavoro era Pesante Naturalmente Non c'erano i macchinari Che ti potevano Aiutare In quel periodo E quindi Sono delle fatiche In mani Considerate adesso Ecco Hai detto che al tempo A differenza Diciamo Dei genitori moderni Che si preoccupano subito Se i loro figli Ben pasciuti Si annoiano Il rapporto Tra genitori e figli Non era mediato Da grandissimi gesti D'affetto Però certe cose Tu sulla canna Della bicicletta Con tuo padre Il suo odore di sigaretta Sulla camicia Certe colazioni Con tante uova Preparate da Tua nonna Dell'Aide Certi momenti Di intimità Te le ricordi Ancora bene Come se fossero Accaduti ieri Ma sì Ma me la ricordo Non so Tu hai parlato Di genitori moderni Che sono pronti A sostenere il figlio Anche nelle cose Che andrebbe Redarguito Invece Non so A casa mia Le regole Erano ben precise E non è vero Che non c'era Quell'amore Certo non era Già Friulani Non era l'amore Così Espansivo Di bacetti Eccetera Però la sostanza Era ben più pesante Ecco E quindi Rappresentava anche Un certo comportamento Il dovere Di comportamento E non c'erano Così Scappatoie Dice no Ma è giovane Può fare quello che vuole No Insomma Le regole Erano le regole Un bambino Non si poteva permettere Di offendere Non dico Un vecchio O adesso Uno Paralitico Il primo Il primo Che passava Di una certa età Ti prendeva per le orecchie E arrivavi a casa E ti davano anche Lo scappaccione Adesso Se fai una cosa così Tiri Le orecchie A un bambino Quello va a casa Piange E il genitore Ti denuncia Invece di dirti Hai fatto bene E questo L'esagerazione Di queste cose Ecco Quindi I bambini Hanno sempre ragione Certo Hanno ragione Di giocare E devono giocare Questo sì Però andare oltre Insomma Il rispetto delle persone Si comincia Da giovani O da bambini Diciamo che Non sempre Per insegnare I confini Da non valicare O i limiti Da non superare C'è bisogno Delle urla No Al terzo piano Di questa casa Di Mariano De Friuli Come abbiamo detto All'inizio C'era un granaio Tu un giorno Da bambino Avevi dieci anni Vedi un nido Di rondini E cominci a fare Una cosa Molto pericolosa Ti inerpichi Per spostare Questo nido Di rondini Con un listello Di legno E lì Invece delle urla Delle reprimende E della paura Per il pericolo Che stai correndo Sei in bilico Su un cornicione Tuo padre Imperturbabile Al centro del cortile Tu così te lo ricordi Tiene la calma Volevo che mi raccontassi Questo episodio Perché No 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 Beh diciamo Probabilmente Era una calma apparente Perché veramente Era in una posizione Pericolosissima E allora Lui cercava Di spiegarmi Che era sbagliata La posizione Quindi non è che dice Vieni giù No no Era sbagliata La posizione Quindi per farmi capire Che non si Non si poteva Fare una cosa così A rischio Ecco questo Questo però Certo Avrà patito Il non Però insomma Il modo Di approcciarsi Era logico Che doveva essere Di tranquillizzarmi Perché se mi avesse Spaventato Magari finivo giù Ecco quindi Certo C'è gente D'esperienza Di vita Di cose Quindi Queste cose Si sapevano Una volta Tuo padre Mario Parte per la guerra Nel 35 Tra il 35 E il 36 Non manda neanche Un telegramma A casa Ritorna Dal fronte africano Ammalato di nefrite Gonfissimo In faccia Stravolto Una dieta Di un medico Locale Lo rimette Miracolosamente In vita Per poi Ripartire per il fronte Parliamo di uomini Che in 7-8 anni Toccano più fronti Di guerra Che vedono cose Atroci Che vanno a lavorare Prima in Germania Poi in Polonia Prigionieri Dopo l'8 settembre E quindi Sono stati portati Nei centri Per il lavoro Per aggiustare Rotaie Fortificazioni Eccetera Dalla Polonia Poi che c'era L'esercito russo CCP Veniva giù Fino in Austria Ecco in Austria Finisse la guerra E quindi Venne a piedi Certamente Tutte queste E queste cose Sacrifici Patimenti Di fame Di tutto Però Era la guerra Mi viene sempre in mente Questa cosa stupenda Che raccontava Un poeta Romagnolo Che tu conosci Che si chiama Tonino Guerra Che va a Dachau E a un certo punto Non c'è da mangiare Sono tutti in questa stanza Lui I suoi compagni Di sventura E lui fa finta Si inventa Di cucinare Dalle tagliatelle Alla romagnola Col ragù E in questi piatti In queste gamelle Non c'è nulla Ed è talmente bello Il gioco Di fantasia Che i suoi compagni Di stanza Gli dicono Tonino è buonissima Dammene ancora Ovviamente il piatto È vuoto Cioè Questo per dire Come Rispetto a quello Che dicevi all'inizio Sono inimmaginabili Sacrifici Che ha fatto Una certa generazione Rispetto A quelle a venire No? Bene ovviamente Insomma Quella guerra È guerra Quindi Non è Mettila come vuoi Insomma Poi prigioniero Di guerra Eccetera E quindi Sono componenti Che insomma Quando porti a casa La pelle È tutto Ecco Che poi Dopo abbia sofferto Tanto Poco È secondario L'importante È arrivare a casa Ecco Questo È È È È una logica Proprio Inoppugnabile Terra a terra Come Come d'altra parte La gente Di quei tempi Era Era Terra a terra Insomma Realistica Sulla sopravvivenza È sul modo Di Di stare In vita L'ultima cosa Su questo Aspetto Perché mi ha colpito Leggendo Una bellissima Biografia Pubblicata da Mondadori Qualche anno fa Lui non ti parla Non solo a te Ma alla famiglia Non parla mai Di quello che ha vissuto E di quello che ha visto Beh Qualche accenno Ecco Qualche accenno Di rischio Perché magari Si faceva Per scappare dal campo Così per andare A cercare Da mangiare Qualche patata Che poteva essere Rimasta In campagna Da che avessero Lassiato i contadini Eccetera Ecco Tutte queste cose Certamente Poi Insomma Era in un campo Di lavoro Non era in un campo Di concentramento Quindi Le cose Che si sono viste Dopo Probabilmente Non le ha neanche viste A farti diventare portiere In qualche modo È tua nonna De Laide Tu hai una Una canottiera Con un numero uno Cucito da tua madre E tua nonna Ti lancia le prugne Ti lancia le prugne Sul prato E tu ti tuffi No Questo Insomma Un po' Un po' Esagerato Certamente C'erano le prugne C'era la nonna E magari Qualcuno Me l'ha tirata Non sul prato Eccetera Poi Però Quella La canottiera Con il numero uno Sì Quello c'era Me lo ricordo ancora Con il numero uno Rosso Con il numero uno Rosso E quindi Ero già portiere Da sempre Quindi Una vocazione Ma non so neanche Perché non c'era La televisione La televisione Del 54 E quindi 42 Quindi No No Quindi Da bambino Non c'era Televisione Che ti poteva Un'immagine Di portiere Eccetera E quindi E' stata proprio La vocazione Del portiere Probabilmente Già caratterialmente Mi apprestavo Al portiere Ecco Magari Un po' Chiuso Un po' Timido Però anche Con quella Prospettiva Albert Camus Era portiere Per esempio Lo racconta Con quella prospettiva Di poter controllare Le cose Tu racconti Questa cosa Meravigliosa Che Dopo Il matrimonio E' passato Molti estati Nel nord Della Toscana Puntala E' un po' insofferente Sotto L'ombrellone E leggevi Non leggevi Insomma Faticando Nel vivere In maniera completa La giornata di mare Però poi Ogni tanto Abbassavi il giornale Abbassavi il libro E controllavi Che certi bambini Non affogassero Non avessero problemi In acqua Come Una condizione Intima Di dovuto Controllo Sulle cose Che succedono Il portiere Deve capire Quello che succede Mi fa piacere Che mi fai Questa domanda Perché il portiere Ha bisogno Di essere attento Su tutto Perché Basta niente Per prendere il gol Una deviazione Eccetera Quindi una visione Periferica Di tutto La responsabilità E questo Me la porta Anche nella vita Difatti Sono sempre Ligio A vedere I pericoli Dove possono essere Ecco Anche nella strada Nella vita Poi dopo Se ti capita male Ti capita male Però Certamente Insomma Sono molto Apprensivo Su questo Ecco Perché vedo Vedo proprio La faciloneria Dei rischi Che uno Passa E non se ne accorge Del rischio Hai capito Io invece Cerco di dargli Peso A questi rischi Poi dopo Magari Mi capita A me Una stupidata Che capita Sempre L'ora Dello stupido Questo È una componente Mi viene in mente Che quando C'è il primo Trasferimento Molto importante Per te Dall'Udinese Al Mantova Tutti presenti A Mantova Città Ovviamente In cui starai Benissimo È molto diversa Dal Friuli Dal quale provieni E ti presenti Con una 850 Abarth Modificata Da te Attraverso Le tue conoscenze Avevi lavorato Da meccanico E il direttore sportivo Del Manto Vuoi il presidente La guarda E dice tu Su questo trabiccolo Non ci devi salire più Ed è pericoloso Ma è certo Era Diciamo Una versione Casalinga Sportiva Nel piccolo Ecco Però insomma È abbastanza vero Perché faceva un rumore Della Madonna Questo trabiccolo Che poi Oggi Sarebbe considerato Un trabiccolo Ecco 850 Abarth Senti A proposito Di trabiccoli Di forza umana Per Andare a giocare a calcio All'inizio Tu ti fai Tutti i giorni 20 km in bici All'inizio Su una bicicletta Incerta Poi tuo padre Con tua grande sorpresa Te ne regala una Cos'era questo Se non Ottimismo Della Madonna Quindi Bora Pioggia Eccetera Con la bicicletta Ecco questo sì Poi dopo Nell'ambito Del calcio Invece Quando dal paese Sono passato All'Udinese Nei giovani O nelle riserve Corriera Corriera A Gorizia Perché lavoravo A casa mia Non era permesso Pensare Di fare il calciatore No Perché Mio padre Mi ha detto Subito Guarda Se vuoi studiare Facciamo dei sacrifici Ti mandiamo a studiare Tanto i sacrifici Li facciamo Lo stesso Se no Impari un mestiere E vai a giocare Se giochi Se sei bravo Continuerai a giocare Semplice Quindi Io ho lavorato Fino a A quasi giocare In serie A Adesso sento Dei genitori Che dice Mio figlio Vuole diventare Un giocatore A 11 anni Ma fallo studiare Difatti me lo chiedono No Cosa faccio Falo studiare Così impara Anche meglio A giocare Senti 62 anni E tre giorni fa Esattamente Con La precisione Cadenzata Che da solo Il calendario Esordivi in serie A Il 24 settembre 1961 A Firenze Fiorentina 5 Udinese 1 Tu sei portiere Dell'Udinese Forse non te l'aspettavi Hai detto Che di quel giorno In qualche modo Non hai Un ricordo emotivo Cioè Che è come se ti fossi astratto Dallo stadio Dalle voci Dal fatto di Arrivare finalmente In uno stadio Bellissimo Come Lodger Temio Franchi E giocare davanti A 30.000 persone Probabilmente Mi volevo Estranare del tutto Da quello che è successo Prendere 5 gol All'esordio Quindi Facevo finta di niente Ma probabilmente Non esistevo Ecco Quindi Poi ti immagini Un friulano Così È stato Terribile Terribile Non è Da poco È stato terribile Rivedersi al cinema Alla settimana Income Sì Ecco Certo Poi vado al cinema E c'erano i pezzetti Tra il primo e secondo tempo Del film Della settimana Income Arriva fuori La partita Fiorentino di Nero E io mi sono calato Proprio sotto Sotto la poltrona Per non farmi vedere Era abbastanza buio Dal cinema Però mi sentivo Comunque Di occhi addosso Ecco che non era Certamente vero Un tuo allenatore Che ti ebbe All'Udinese In serie B E che non era Contento di te Un allenatore Che poi fa una bandiera Della San Benedettese Che giocò anche a Roma Per tanti anni Con la maglia della Roma Aveva preso La bruttissima abitudine Di andare in paese Del tuo paese Dove proprio dovevi Sentirti più protetto A Mariano del Friuli E a dire cose Poco gentili di te Quest'aria cattiva Che si spanse Portava i tifosi A dire Zoff come Suf Che era La zuppa Senz'arte ne parte Poverissima Farina e latte La zuppa di guerra La zuppa di guerra Di guerra Latte e farina Come andò questa storia? Ma no Beh certo Io non ero preparato Anche perché Avevo fatto un campionato Di serie B Dopo l'elogio In serie A Di quattro Belle partite Poi dopo Firenze Altre tre Molto bello Il senno a Torino Con la Juventus Con la Juventus A Palermo No 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 E feci un campionato Ridicolo Certo E io non ho mai Dato la colpa Agli allenatori Però In aggiunta Insomma Sentire anche il paese Poi sai paesi Non tutti sono pro E quindi Insomma Non ero preparato Non ero preparato A subire Anche questo Ecco però Nella sostanza Facevo ridere Hai fatto ridere Quindi In campo Senti Tu ti sposi Nel 1968 Il 15 luglio Mentre stai facendo Il militare Sì ma ti dirò Anche di più Perché per andare Per sposare A Manto Eccetera Il passaggio A Manto Perché mi chiamò Il presidente Dell'Udinese E mi disse Guarda Io so che tu Non sei così scarso Come dicono Però qua non ti vuole Nessuno Quindi io sono costretto A darti via E quindi Ti do via E non prendo Anche niente Perché hai La considerazione Così bassa Proprio E quindi Mi dispiace Però è così Quindi passai Al Manto E invece E dove Fu la mia Ripresa Totale Ecco Oltre a Mia moglie Eccetera E quindi Tutto Partì da lì So che sei Pudico Però questa cosa Sembra talmente Venire da un film Di Francapera Che te la devo chiedere Tu Arrivi a Manto E a un certo punto Vedi Riflesso Nello specchio Di una vetrina Passeggiando Una ragazza Con una giacchetta rossa Che si chiama Anna E tu ancora non lo sai Cappottino Con un cappottino rosso E ti apposti Nello stesso punto Per tante volte Nell'attesa Di avere il coraggio Di fermarle Di dirle qualcosa Quella donna Oggi È tua moglie Eh sì No 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 È stato veramente così Perché sai Io sono Ero anche Abbastanza timido Insomma Quindi Così Da chito Eccetera Non c'erano Tante cose Che sono adesso Insomma E quindi Poi dopo Presi il coraggio Ci fermai E quindi Poi da lì Cominciò tutto Ecco Che tuttora continua Naturalmente Siamo sempre Agli estremi Io caldo Lei ha freddo E tutto Quindi Hai detto che non potevate essere più diversi Che la famosa storia Sì sì Gli estremi Si toccano Senti A proposito di caldo e di freddo Molto importante è stato l'arrivo a Napoli No Lo hai raccontato bene nella biografia È come un vento caldo che ti arriva Un crogiolo di voci Un'atmosfera completamente diversa da quella comunque Non solo friulana ma anche mantovana A Napoli conosci personaggi incredibili Da Totonno Giuliano a Omar Sivori Che anni sono stati quelli di Napoli? Sono stati per esempio L'inizio ecco La prima partita amichevole del passaggio dopo Manto a Napoli Era costume che il portiere a Napoli quando scendeva in campo Dove salutava la curva E mi dicevo Ma no dovresti farlo A me sembrava proprio di ruffianarmi Ma come arriva Non mi conoscono eccetera Devo salutare così come E qui ma no è meglio perché ci tengono E allora le prime volte alzavo la mano proprio con timidezza eccetera Perché mi sembrava di ruffianarmi Ma arrivo e già mi applaudite Insomma per me era fuori dai canoni E poi lì invece si tradusse veramente che salutavo con piacere Perché sono stato apprezzatissimo a Napoli E quindi oltre a giocare con dei grandi Del Sivori, Altafini, Giuliano e tanti altri Sivori aveva la battuta pronta Allora gli dicono Omar ti ricordi quella partita che abbiamo giocato insieme? E lui come rispondeva? No quando arrivava uno di un'altra squadra Diceva Omar ti ricordi? E lui faceva un passo indietro E diceva no insomma giocato Era in campo Proprio il sarcasmo proprio terribile Simpatia A me diceva ma guarda che se non inventavano i pali I portieri morivano di fame Ecco per dire Stupendo Quante persone c'erano come te in quel calcio di allora? Beh diciamo no non molti Ma erano tempi diversi Mediaticamente Adesso siamo arrivati a un'esposizione mediatica Stratosferica Io che sono vecchio adesso Allora I media sono così Allora erano così pochi Una volta che non si sapeva la verità Su quasi niente Adesso che sono tantissimi media Si sa di meno È vero c'era un rapporto diretto con i calciatori? No 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 Ma no questo è in generale Non dico i calciatori È il mondo proprio Certo è vero È tutto È un paradosso È un paradosso Che si sa tutto e non sai niente Almeno ecco questo No e quindi erano generazioni Che diciamo il personaggio Arrivava dopo la prestazione Adesso magari con una piccola prestazione Mediaticamente magari si esplode subito Ecco quindi Non so Per dirti un friulano una volta Se metteva un piede in serie A A vent'anni Tu stai tranquillo Che lo trovavi in serie A Fino a trenta Se riusciva a mettere un piede in serie A Anche per dire Invece adesso magari c'è gente Che mette il piede in serie A E poi dopo due stagioni Non c'è Ecco E questo Ma questo è caratterialmente Anche proprio del prima lavoro Hai capito I numeri I numeri Io ho sempre Ho sempre viaggiato con i numeri E lo sporzano i numeri Perché i numeri non mentono No no I numeri è la realtà Non ci sono Non ci sono santi Poi puoi dire Che avevi la febbre Eccetera Però non esiste Quindi io mi sono Sempre così difeso con i numeri Era questo Il mio Mai con le parole Che mi sembrano sempre false Capito Sembrano scure Falsità No no Magari delle volte ci sono anche delle scuse Non è che Uno Però Non mi piace Hai detto che la vita non ha bisogno di aggettivi Eh sì Perché è già la vita stessa Insomma Che è più che un aggettivo Insomma E quindi direi C'ha tutto Tutte le componenti Belle brutte Dure Felici Non sempre Insomma Adesso non vedi che parlo da vecchio Dici Ma ti senti vecchio Dino tu? No 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 Insomma Certo Quando sento della gente Che mi dice No ho 70 anni E mi sembra di avere 40 Insomma mi fa ridere Ecco Io dico Ho tutti gli anni Ce li ho Di fatto ogni tanto Mi dimentico Qualche nome Insomma Ti potuto non aspettartelo Se avessi fatto Il farmacista Il farmacista No 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 Ma te Questa è un'espressione Veramente Proprio Realistica Perché c'era uno Ho fatto un tiro dal limite Non da 50 metri Come ne ho presi anche Che dice Ma il gol lì Ma sai Non me l'aspettavo Tirasse E lui mi dice Perché fai il farmacista Fai il portiere Che se non te l'aspetti Te chi deve aspettartelo Hai capito Non c'erano scuse Su niente No 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 E questa è Una realtà Che ho Sempre portato avanti Non mi racconto Parle mai Su niente Anzi Sono Esageratamente Autocritico Anche questa è Una presunzione Di forza Perché noi friulani Siamo deboli Nel parlare Nel fare Però Siamo orgogliosi E presuntosi Nel nostro lavoro Perché pensiamo Di farlo sempre bene E quindi Quando non va bene Dice Caspita Ci sentiamo L'autocritica E feroce Giovanni Arpino Scrive un romanzo Meraviglioso Azzurro tenebra Sulla spedizione Sfortunata Della nazionale italiana Al mondiale di Germania 1974 Tu giochi Importa È un anno Particolarmente Fortunato Newsweek Ti mette In copertina Come uomo Dell'anno Voi vi presentate Come una squadra Potenzialmente Molto forte Ferruccio Ferruccio Valcreggi Allenatore Mazzola Rivera Chinaglia E te importa Ma le cose Non vanno bene E arrivano L'eliminazione Precoce Che ricordo hai Di quel mondiale Lì Che ti tolse Anche l'imbattibilità Dal più inopinato Dei calciatori Possibili Sanon Un calciatore Haitiano Beh partendo Da questo È nella logica Che un grande Un grande record Viene portato via Dall'ultimo Ecco Anche se Era un ottimo giocatore Si giocava Con l'Aiti Però insomma È nella legge Delle cose Quindi non è che Mi ha bruciato Questo Mi ha bruciato Probabilmente Com'è andato Quel mondiale Ecco Certo Eravamo probabilmente Troppi generali E quindi Quando sono Tanti generali La truppa Barcolla E questo è vero Ecco Insomma Difatti Io sempre Parlo di Di Bearzotta Dell'82 Perché solamente Con lui Potevamo vincere Il mondiale Non credere Di quello Che dite voi I giornalisti Eccetera Tizio Caio Sempronio Perché Nelle situazioni Che ci siamo Trovati Insomma Se il comandante Vacilla O prende Posizioni Sbagliate Affondi Ecco Diciamo Questo No no Il mondiale Del 74 E poi Fumo Fumo Eliminati Al primo turno Però incontrammo L'argentina Pareggiamo E poi Perdemmo Con la Polonia Che era Una squadra Che poi è arrivata Quarta Ecco Per dire Che non Era così Scandaloso Questo Anche se poi Adesso Mi viene da ridere Che ogni cosa Che succede Si muove Tutta la critica Non si può Fare questo Quell'altro Violenze Non violenze Siamo arrivati In casa Dai mondiali Siamo Atterrati Alla Malpensa L'aereo Si è fermato A fine pista E ci hanno fatto Uscire Non dal Cancello Col cellulare Ma non il cellulare Moderno Col cellulare Della polizia Col cellulare Della polizia Fino a Milano Ecco Per dire Eppure Avevamo fatto Non avevamo fatto Le cose Che si aspettavano Tanto Ma non è che Eravamo comportati Hai capito Per dire Io ho fatto Gli anni 70 Sui campi di calcio Te li raccomando Guarda Però è inutile Parlare sempre Del dopo Però insomma Siccome io ho un'età E ho passato Tutte queste cose Quando adesso Si scandalizzano Per la menata Tutti Giorna Insomma Insomma Mi ricordo Che Parli di un Di un Napoli Juventus In cui Panzanato Esce con i punti Sì Ma quello Nel campo Il campo Succedeva Come succede Fuori Tu dici Fuori Sugli spalti Fuori Dopo 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 Quando Prendevi il pulmo Per tornare a casa Insomma Perché Devo dire Hai ragione A parte che Ovviamente Il decennio Dei 70 È un decennio Violentissimo Pieno di scontri Diciamo Che esulano Anche dal calcio Ci sono decine Di morti Per le strade C'è una violenza Politica Terribile Però È anche vero Detto che la violenza Ovviamente È sempre Ingiustificabile È anche vero Che la nazionale Animava Passioni Incredibili Mi viene da pensare A Mondino Fabri Che torna Con la nazionale Sconfitta Da Pac Doic Al mondiale 66 E si becche Pomodori A Milano Mi viene da immaginare Appunto Il vostro ritorno Con Valcareggi In 74 O il trionfo Dell'82 Si muovevano le città Si muoveva il paese Adesso si muove Si muove tutto E non si muove niente Bravo Si muove tutto E non si muove niente Ecco Adesso Questa è una frase Un po' pesante Se vogliamo Però No ma c'è Non siamo andati Ai mondiali Non è successo niente E noi siamo venuti via Dal primo turno Dei mondiali Perdendo Con delle signore squadre Ma la storia Perché voi Non la dimenticate La storia Tornando Dal Messico 70 Pomodori Ma che cavolo Pomodori Pomodori da ridere Si dava di testa I pomodori Hanno invaso Su un micino 5.000 persone Ma non Alla biglietteria Per farvi la pelle Sulla pista No A Valcareggi Sulla pista 5.000 persone Sulla pista L'aereo finito Come i dirottamenti Al fine Noi ci hanno portato In un hangar E lui l'ha portato via 5.000 persone In pista In ferrocite Certo Nonostante Foste arrivati in finale Col brasilio di Pelé Solo per dire Che la diversità Certo Certo Se adesso entra uno Sulla pista Succede Un finimondo 5.000 Hai ragione Un altro mondo No Lo dico per chi ascolta Quella nazionale Del 70 Passata la storia Per Italia Il giornale Era 4-3 Era arrivata in finale Con il Brasile Aveva perduto Per 4-1 Ma avrebbe dovuto Essere accolta Dagli applausi Sì no Ma era poi Rivera-Mazzola Rivera-Mazzola I sei minuti di Rivera A fine partita Quando era già persa Sembrava una cattiveria Invece Io ero in panchina E non lo era Una cattiveria È stato un momento Così Che eravamo Perso 4-1 La gente Non sa più Dove Dove si trova Con una squadra Insomma Molto forte In quella porta In quell'Italia C'è Enrico Albertosi Nel 74 Tu sei titolare Da che parte stavi Dino Dalla parte di Valcareggi Mandato a fare in culo Da Chinaglia All'uscita dal campo O dalla parte di Chinaglia Con il quale Avevi fatto il militare No, no Io prima di tutto Non sto da nessuna parte No Che poi dopo I comportamenti Io credo Nelle regole Dei comportamenti Nelle regole E le regole Esulano Dal comportamento Di Chinaglia Che poi Uno non è contento D'accordo Però che da lì Fa dei gesti Eccetera Non sempre No, no Non sono Io sono Sempre istituzionale Anche perché Io credo Nei ruoli Io non Non accetto Io sono L'allenatore Tu sei giocatore Se tu vuoi fare L'allenatore Anche farlo Ma no Insomma No, no Io credo Nei ruoli La responsabilità Non credi Nell'anarchia No, no No, no L'anarchia Non credo No, le regole Sono le regole Se non siamo d'accordo Sulle regole Quello è un altro Paio di mani Allora facciamo le votazioni E facciamo le regole Che vuoi tu Se hai tanti Come te Se non ce n'hai Accetti le regole Della maggioranza Senti La spedizione Che vi farà entrare A pieno diritto Nella storia Perché io credo Che non ci sia Italiano Che ha avuto la fortuna Di poter vedere Quei momenti Che non Non abbia L'11 luglio 82 Come è una delle date Diciamo Più importanti Del secolo scorso La spedizione Che vi porta Da Pontevedra Al primo ritiro Anzi dal parco Dei principi di Roma A Pontevedra E poi Alla vittoria Del mondiale Parte sotto I peggiori auspici Voglio sapere Se c'è stato Un solo momento In cui tu Prima di partire Per la Spagna Prima di partire Per il mondiale Che accelererà Campione del mondo Avresti mai pensato Che potesse finire così No Allora In genere Non sono mai così Sono convinto Che si possa sempre vincere Però non ho mai Perché vengo da paesi Dove Io non ho mai pensato Di arrivare in Serie A Io Sono Sono abbastanza freddo Da valutare Le cose E allora Ti dico subito Che poi Le cose Si complicano Poi nel calcio Nello sport Possono andare Di traverso Eccetera Però La sostanza Se tu la vedevi Freddamente Non di parte Non di parte Se tu perti Dalle posizioni Che tu non consideri Allenatore All'altezza Della situazione Perché non ha Convocato Pruzzo Perché non ha Convocato Beccalossi Eccetera E due Proprio Milano e Roma Il potere Della stampa Di tutta Italia E lo consideri Un deficiente Eccetera Senza fare Un po' Perché In Argentina Quattro anni Prima Se gioco Un po' Meglio Io Arriviamo In finale Se gioco Un po' Meglio Io Per dire Allora La squadra C'era Più o meno Era la stessa L'allenatore Più o meno Era lo stesso Quindi Perché Avremmo dovuto Essere Dei deficienti Dopo Dopo Così Quindi se tu Facevi queste Valutazioni E poi La valutazione Del primo turno Io che ho esperienza Il primo turno È terribile Ma terribile Per la paura Di non passarlo Perché sai Che se non passa Il primo turno Viene in casa Con i cellulari Quindi La responsabilità Di passare Il primo turno È terribile Però Poi dopo La squadra È venuta fuori Quello che era Quello che Ha fatto vedere Quindi I presupposti C'erano tutti Certo In situazioni Del genere Solamente Un comandante Come Beardot Poteva Portarci fuori Che ne dicano Poi c'è C'è alcuni Alcuni colleghi Che si vergognavano Davvero Un allenatore In nazionale Come Beardot Ma siamo Siamo un paese Veramente Che i numeri Contano Secondo Quello che vuoi vedere Ma sono i numeri I numeri Sono numeri Non puoi Metterli davanti O dietro Secondo le tue Partigianerie Che caspita E quindi Beardot Ha scelto Il massimo Abbiamo fatto Quello che abbiamo fatto Perché un mondiale Così ti dirò Non lo farai più Perché un mondiale Così con tanti gol Fatti su azione Spettacolari Eccetera Non succederà più Perché quelli Del 2006 Che Vale come il nostro Perché hanno vinto Il mondiale Per ora hanno vinto Sul corner Sull'espulsione Ai rigori Noi abbiamo Stracciato tutti Hai capito E non avere Meriti di questo È veramente Partigianeria Non si può Cattiveria Hai ragione Che belle azioni Ma no dai Ma sai che Ambrogino d'oro A Milano Non l'ha voluto dare Mi viene da pensare Che quanti Scusate Prima una cosa Per eliminare Quanti chilometri C'erano Tra Iello Del Friuli E Mariano Ma saranno Dieci Dieci Eravate Praticamente Più che conterranei Ma sì Sì certamente Eravamo Nel rispetto Dei ruoli Tutti Pensano Come siamo Sempre noi E tu con me Azzotte Hai parlato Io non mi permettevo Di dare un parere Se non me lo chiedeva Li davi del lei? No no Quello no Quello no 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 Non mi permettevo Di dire Guarda quello No Se me lo chiedeva lui Dicevo la mia Ma io non Avete un concetto Strano Delle cose Ma adesso Quando si vince C'è il gruppo Il gruppo Quando si vince Per forza lo è Io invece Dico che ognuno Deve fare Il massimo Del proprio lavoro E questo Viene fuori Il gruppo La responsabilità Di dover fare Il proprio lavoro Bene E bene Significa Non essere amici Però se Io dico Devo farlo bene Se devo dare la palla A te Che sei nelle migliori Condizioni Anche se non mi sei Il mio amico Te lo devo dare Questo è il concetto Perché poi Sono stato in squadre Che non c'erano Tanti amici Abbiamo vinto lo stesso Perché era il concetto Che uno Deve lavorare bene Il massimo Delle possibilità Il gruppo La Madonna Eccetera No 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 E se vedi che sono vecchio No invece No 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 Sono vecchio Tante cose Dico È giusto che muoia Tanto non è che Di lo spiego Di lo spiego No 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 Insomma Sono lì Caspita Tu lo sapevi Che partendo Per la Spagna Quello era l'ultimo Era il canto del cigno Poi accadrà Ma sì È già tanto che partivo Perché ero vecchio Che Beazzotto Era innamorato di me Che aveva fondato L'Argentina Che qualche giornalista Diceva che non ci vedevo Certo Dopo Non ti avevo mai sentito dirlo Se avessi giocato meglio In Argentina No L'ho sempre detto Dopo Sempre detto Cioè Quei gol da 40 metri Erano No Uno Uno Sì Come ti dicevo Responsabile Mi sento del 40% Dei gol Che ho presi Hai capito Quindi anche lì Sono più Certo Però non ti posso dire Che il tiro è arrivato così Poi lo devi Non c'è No Erano molto belli Quei gol Devo dire Comunque Anche se li avevamo presi Erano delle parabole No 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 Non mi voglio Dire No Ma non è così No Che mi fai peggio Che cosa hai sentito Quando al novantesimo Queio Fischia la fine Ma sai Sentire Sono momenti Che sei In paradiso Sei in gloria E quindi Insomma Lo sport Ha delle violenze Positive Di gioia E di felicità Terribili Come in negativo E' logico E' sempre Più o meno Ma hai sentito anche Che in quel momento Di apogeo Massimo Di gioia C'era anche una fine Beh Sì No Sì E' logico La fine E' la fine E' insita Nelle cose Che cavolo Vuoi dire Devo giocare Fino a novant'anni Uno può giocarlo A altri ritmi In altre posizioni Sì Però certo Che poteva essere ultimo Finite In un albergo Di Madrid Con una bottiglia Di vino rosso Tu E' uno degli amici Della tua vita Gaetano Scirea E cenate Quasi in silenzio Ma sì Perché cavolo Che cosa vuoi dire Hai tutto dentro Che scoppia Dalla felicità Cosa vuoi Banalizzarlo Con i gesti A ballare Puoi andare Ogni settimana Hai capito Quindi E' questo Ecco Questo La fine Che dici Che sarà L'ultimo Adesso Me la gusto L'ultima Però è bella Questa immagine L'11 luglio 82 L'Italia impazzita Io ancora me lo ricordo I gelatai Regalavano Iconi Tricolore gratis E c'era questo Delirio Popolare E immaginare Il capitano Della nostra squadra Che ha 40 anni E quel giocatore Meraviglioso Che era Gatano Scirea Libero della squadra Con la sua maglia Numero 6 In una stanza D'albergo a Madrid Con una bottiglia Di vino rosso E non c'è bisogno Una sigaretta E c'era una sigaretta Si può dire Adesso Magari Scirea Era Era Una cosa Straordinaria Come persona Eccetera E quindi Insomma Ma no Ma ti dirò di più Io con il mondiale lì Ero di una tranquillità Olimpica Straordinaria Sono arrivato Alla finale Che avevo Avevo poca benzina E meno male Che la squadra Ha andato forte Perché A fare il silenzio Stampa Allora ti dico Cosa succedeva Le prime volte No Dopo la partita I due capitani Vanno alla conferenza Stampa Italiana Mondiale Tutti Tutti Un salone Di giornalisti Eccetera E allora Quando Cominciavano Con il capitano Dell'altra squadra Le domande Dei giornalisti italiani Di tutto il mondo Quando finiva lui Quando dovevo Parlare io La nostra stampa Si prendeva E andava fuori Per dire Che ce ne frega Quello che dice Zoff Io non ho fatto Una piega mai Non mi sono Lamentato Era così Bisogna raccontare Per chi è troppo Giovane Che come abbiamo detto Con l'espedizione mondiale Partì Sotto i peggiori Ospici La stampa Diede il suo Peggio Si raccontò Che Paolo Rossi E Cabrini Avevano una relazione Amorosa Si insinuò Ad un certo punto La squadra Si stancò Diede a Dino Zoff Il ruolo di portavoce No Me la son preso io Ah te lo sei preso tu Hai detto parlo io No Me la son preso io Perché avevo Allora Più o meno I giornalisti Sapendo che si arrivava La silenzio stava Diceva Va bene Ma noi vorremmo Parlare Con la commissione Vostra Che la commissione Era quella Che discutevamo I premi Ero io Tardelli Graziani E Causio E allora io ho detto Guardate Voi pensate a giocare Che il resto Il resto ci penso io Ti caricasti Questo peso sulle spalle Certo Sì ma perché sei in campo internazionale Ma non puoi sbagliare una partita Vuoi che faccia parlare Chi magari si lascia portare Dall'entusiasmo Dice una parola fuori dal mondo Perché cominciavano a dire No In Italia Il calcio non è democratico E così Quindi non è che poi Voi pensate a giocare Il resto ci penso io E quindi anche il fatto Che quando la stampa Si alzava Andava via Non faceva Non faceva La vittima Adesso Non voglio No no Quanta gente hai visto salire Sul carro del vincitore Ma no ma quello è normale Anche chi non partecipa Poi dopo vuol salire Capito Sì certamente Quello che Da fastidio Quelli che Che magari Ti hanno boccato le gomme Ecco questo Però no no Beh la vita è così Non è Ma per dirti che Veramente Insomma non è Non era facile Ecco Perché io dovevo giocare Quarant'anni anche Quindi Parlare Poi dicevano che non parlo mai Tu vedi invece che sto parlando Parli Ho sempre pensato Che non fosse vera Questa cosa No se tu mi dici Com'è quel portiere Ti dico bravo Sì no È finita lì Non dico che Che non para O para bene Perché così Non mi fa Non sono giornalista Ma è stato Quindi non do commenti Non voglio dar commenti Tu sei stato Una Chissà perché le parole Sono sempre così retoriche Bandiera Colonna Moloch Sei stato Parte integrante Diciamo Storia stessa Della Juventus Giocare Nella Juventus Nel decennio 70-80 Significava Scindere con grande difficoltà Il mondo della Juventus Da quello che rappresentava la Juventus Anche a livello industriale Quello che rappresentava Torino Una città operaia Con la Mirafiori Con la più grande Azienda automobilistica italiana Che all'epoca Oggi sembra impensabile Competeva Con i giganti Dei motori del mondo Stringiamo Che cosa ha significato la Juve? Beh No no La Juve Insomma io Venivo da Napoli La Juve Erano tempi Che andare alla Juve Era come andare alla Fiat Con i doveri Ecco Questo insiti Nel comportamento E questo non era da poco Ecco Comportamenti logicamente Nell'ambito calcistico Della squadra Eccetera Però Un certo modo Di interpretare La professione Rapportata Al lavoro Alla responsabilità Dei dirigenti Capito Non è che Poi Anche se eri Zoffo Occhi per lui A dire Cose oltre Il tuo ruolo Ecco Questo è vero Insomma La Juve Rappresentava questo Ma non la modernità Calcistica Come dicevano Eccetera Però Un certo modo Di andare in un ambiente E dove Dovevi Dire una parola Puoi dirla Quella che vuoi Però Non è che puoi Parlare Qua si può prendere male Queste parole Che dicono Però Insomma Il comportamento Uno può dire Cavolate Perché Sei giocatore O sei questo Non che Poi Con una frase così Puoi tirar fuori Che la Juventus Non si poteva parlare Ecco No Certo che no Non vorrei No no Si capisce No no Siccome io sono vecchio No 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 Perché La mia cadenza Parlo lentamente Eccetera Perché ho sempre parlato Pensando a quello Che tu mi puoi tirar fuori Da tre parole Ah ma questo va tutto Edino Non ci sono tagli Hai capito No 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 Per dirti Capisco Io no no Io no no So le cose Ecco Però arrivare Alla Juventus Era come arrivare Alla Fiat Un lavoro Hai capito Perché a fine anno Dicevano Hai vinto Hai perso Non è Dicevano No ma sai E quello E l'altro E perché E per come Hai vinto Hai perso Sei secondo Primo Terzo E c'era un certo Obbligo di vincere Diciamo Beh beh certo L'obbligo L'obbligo è sempre Di vincere Nell'ambito Delle proprie possibilità Una mattina Ti chiama L'avvocato Agnelli Sono le otto di mattina Tu hai ancora Le serrande Della casa No Diciamo le otto e mezza Ecco perché Potevo essere Il cinquantesimo Credo Perché lui Cominciava Le cinque e mezza Non per dire No perché Tanti lo spacciano Mi telefonava Agnelli Alla mattina No Tu dici Caspita Telefonava te E no Ero il cinquantesimo Quindi per dire Che non ero Però posso dire Che l'avvocato Non ne l'ha telefonata Eccetera Quando io sono arrivato Da Napoli Ogni volta Che veniva A trovarci A Vilar Perosa Mi interrogava Su tutto Il calcio mondiale Perché io Da Napoli Avevo già fatto Diciannove partite In serie A No In nazionale E quindi Avevo già giocato In Europa Contro tutti E allora Lui mi chiedeva E com'è quel centravanti Svedese Com'è quel Ma proprio Come il tifoso Proprio O lo sportivo Lo sportivo Proprio che vuole sapere Tutto Ma ti dico Passava delle ore A dire Ma com'è quel portiere Com'è quello Ma a livello Quindi per dire La partecipazione Che aveva lui Nel calcio Ecco Non è che era Il presidente Che diceva Proprio Voleva sapere Com'è quel giocatore Quel centravanti Ma non solo Lo chiedeva a me Magari Lo chiedeva anche Al dirigente Fiat Francese Com'è quello Hai capito Per dire Veramente Straordinario Molte volte Mi diceva Ma quello Ti ricordi E io dicevo Di sì Perché sai Ai grandi Non si può dire No ma sì O sì o no Io dicevo Di sì Magari non me lo ricordavo Per dire No no Veramente È proprio Di una simpatia Sotto questo aspetto Veramente Da non credere Che ti chiedeva Quella mattina In cui ti chiamavano Le otto e mezza Ti chiede Com'è il tempo a Torino Ecco no Beh Quella delle otto e mezza Perché era la partita Com'è Com'è Non v'è Certo Certo Io Non avevo ancora Aperto la finestra E come dicevo Prima Non puoi dire Sì no Ma lui Si alzava Le cinque Io alle otto e mezza Un suo Un suo Ancora letto Mi vergognavo Un po' E allora Dicevo Sì abbastanza Avvocato Perché Alla sera prima Già Pensavo Cosa poteva essere La mattina Ci sono un po' di nuvole C'è un po' di sole Senti ma Quando finisce La storia con la Juventus È lui a mandarti via In qualche modo Lui a comunicarti Queste cose Sì A comunicarmelo Sì Quello che è successo Non si sa È un segreto Non so se di Pulcinello Eccetera Perché C'era Romiti Montezemolo Tutti E quindi Nessuno Se prendo la responsabilità Parliamo di Dino Zoff Allenatore Qui È 1990 Perché poi Io avevo fatto Particolarmente bene Con una squadra Buona Però non Straordinaria Che è stata Grande Perché poi Mi viene da ridere Perché adesso Dice L'allenatore Non è confermato E allora Non vince Per quello Io non sono stato Confermato A gennaio E hai vinto tutto Fino a giugno No Ho vinto Ho vinto tutto Però anche i giocatori Quindi devo dire E forse l'hanno fatto Per rispetto Perché sapevo Che se cadevo io Qualcuno Cadeva anche di loro No Con l'avvocato Mi dice No Zoff Allora Mi riceve in villa Eccetera Mi dice Zoff Parliamo un po' Di calcio E come Niente Forse l'avvocato Non è che E allora Poi mi dice Ma sai Zoff Noi non abbiamo Intenzione Di rifargli Un altro contratto Se l'è il padrone E poi fai quel cavolo Che vuole No Però sarebbe meglio Non dirlo E lei ha detto No avvocato Non mi dica questo Perché lo dica Ai suoi giannizzeri Che stanno già Spargendo la voce Che non sarò E allora Io non lo dico E non me ne frega niente Di dirlo Non dirlo Però Lo dica ai suoi uomini Non a me Scendendo le curve Con la macchina Ti accorgi Quel giorno stesso Di essere arrabbiato Che è un sentimento Che ti appartiene Ma No Ecco Mi sembra Di vedere Com'è il mondo Mediatico Il mondo Mediatico Quello che può Far apparire E che poi Dopo si è sgonfiato Però Io ho perso Perché ho vinto Caspita Coppa UEFA Coppa Italia Col grande Milan A San Siro Con gol di Galia Gol di Galia Il tripolino Il tripolino Roberto Galia Capito E quindi E quindi E dice Caspita Poi la squadra Ha fatto cose Miracolose Avete vinto Avete vinto Avellino La Coppa UEFA Coppa UEFA Insomma Il massimo In assoluto E mediaticamente Perché non mi sono bastati I risultati Vedi come Caspita E per quello Sono rimasto male Dici Non arriva Non mi scandalizo Non tiro fuori scusa Però Caspita Ti porto Il massimo Che può dare Questa squadra E tu lo sai Che è il massimo E tu ti lasci Prendere Da quattro fogli Di uno Che spaccia Miracoli Questo è stato Proprio Significativo Bravo Proprio sintomatico Del cambio d'epoca Che andava la fuffa La fuffa era più importante No no La fuffa No Poi la fuffa No no È brutta parola Diciamo Poi è venuto fuori La realtà Ecco no Fuffa Però a te non è mai piaciuto Presentare la realtà Per quella che non era Ho sempre sminuito Quando un giornalista Mi veniva Dice Com'è il calcio Così E ho detto Ma sai Io partivo Il calcio è semplice È questione di equilibrio Se io ti cominciavo A parlare Di dire No guarda Che io faccio giocare Quello Perché quello Mi fa tre metri avanti Perché quello Poi va Fai sei metri Dall'altra parte Che poi va dall'altra E ti coinvolgo In questo Automaticamente E io Se io ti dico Che il calcio è semplice E così Odestamente Dici Ma cazzo Allora potevo farlo anch'io Quindi non ho avuto mai Io ho fatto bene Da per tutto L'allenatore Anche da presidente Devo dire No da presidente Ero senza portafoglio Quindi non potevo fare Bene o mai Quindi no E vedi sono Sono realista Però Con i numeri Da all'allenatore Ho fatto Insomma Sono arrivato Secondo gli europei Per una Siocchezza Non li abbiamo vinti Però non abbiamo fatto Brutta figura Da nessuna parte Mai Beh insomma Io La finale del 2000 Arrivano gli altri E ti passano E' finita Quando è finita E' finita E' insultati? No 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 Le hai spronati Le hai spronati Senti Dino E fai una cosa Totalmente anomala Ti dimetti E qui bisogna fare Un passo indietro Ricordare che La nazionale di calcio italiana Guidata Allenata Da Dino Zoff Nel 2000 Arrivò Fino alla finale Contro la Francia E la perse Al golden goal Cioè Con una regola Folle Si possiamo dire Che non c'è più Per cui Chi segna per primo Vince la partita Ai tempi supplementari E la partita Si interrompe Nel momento In cui una delle due squadre Segna Regola poi Come abbiamo detto Eliminata Comunque Zoff Fa uno splendido europeo D'allenatore La squadra Vince le prime tre partite Nel giro dell'eliminatorio Poi elimina anche La Romania E l'Olanda In una partita Memorabile In cui Francesco Tollo Sostituto Dell'infortunato Buffon Para calci di rigore Come se fosse stata Sempre la sua principale attività E quindi la squadra Si presenta in finale La perde Interpellato poco dopo Berlusconi All'epoca leader Del polo della libertà Attacca Zoff Dice che L'allenatore Ha fatto scelte indegne Che Si sarebbe dovuto Mettere un giocatore a uomo Gattuso Su Zidane Mente del gioco Dei francesi Queste dichiarazioni Vengono fatte E hanno Diciamo Una grande rilevanza Un grande riverbero Mentre la squadra Guidata da Zoff Torna dall'Olanda Con la delusione Nel cuore Di non aver potuto Vincere l'europeo In Italia Zoff Scende dall'aereo Passa qualche ora Di tormento E poi Annuncia le proprie dimissioni Nonostante il presidente De la FIGC Nizzola Provi in ogni modo O almeno dice così A farlo recedere Dalla decisione Si dimette perché dice Non posso accettare Lezioni di dignità Dal signor Berlusconi Questa scelta Inopinata Inedita Assolutamente irrituale Dopo un percorso Comunque A cui è mancato solo Il suggerito del trionfo Ma straordinario Allontana Zoff Dalla nazionale E in qualche modo Anche dalla Sua seconda vita Di allenatore Perché poi Come ascolterete Ci sarà solo Un'altra occasione Alla Fiorentina Nel 2005 Squadra presa In pessime acque E salvata dalla Serie B Ma insomma La violenza Delle accuse Che vengono fatte A Zoff E la sua risposta Secca Severa E irrimediabile Porta delle conseguenze E questo Dino Zoff Lo sa benissimo Questo argomento È difficile Perché non è Non è solamente Nell'espressione Di un certo personaggio Però insomma È tutta una Una catena Di alberi Capito Ti sei pentito Di quelle dimissioni No no ma sapevo cos'era Io sono le cose Però sono coglione Sapevo Perché nel calcio Tu puoi fare tutto Posso reagire Buon fare Poi va tutto A tarla luce e vino In quel caso Era un gesto Rivoluzionario Hai capito E sapevo Che lo pagavo Secondo te L'hai pagato dopo Molto Aspetta è finito È finito lì Eh sì Sì poi sono andato Al 2005 Tre mesi Alla Fiorentina E l'ho salvata Certo E l'ho salvata Perché sono stato Il terzo allenatore Della stagione Quindi sai Se due vanno già male Tu sei ultimo Però scusami Questa cosa è molto interessante Tu sapevi Di fare un gesto Rivoluzionario E che quel gesto Avrebbe segnato In qualche modo Non certo La fine della vita Ma la fine della carriera Sì 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 No no Era nella logica Delle cose Io lo so È rivoluzionario Perché so Che Di madri Facevo due parole E poi dopo Andavamo tutti a bere Diventava bello Per voi Che c'è visto Che sono andato Hanno fatto la pace E così E giusto Sì La frase devo dire Fu particolarmente dura E in quel momento Adesso sembra impensabile 23 anni fa Dire Non mi faccio Le dare lezioni Di dignità Era una stele Eh beh che cazzo Di dignità Tu dimmi tutto Che non ci capisco niente Ma di dignità Cazzo Che potrei avere Una giacca piena Di mostrine Di mostrine Come i generali Come la foto Di Francesco Giuseppe In il salone Di tua nonna Dell'Aide Che rimpiangeva Il sovrano Sburgico Dino Sei contento Di tutto Quello che c'è stato Sai da vecchio È difficile Che sia contento Di tutto Perché stai Invecchiando Stai per andare Dall'altra parte Sì E che cavolo Vuoi dire Sono l'unico Giocatore italiano Che con la nazionale Ha vinto Gli europei E il mondiale Sono dottore In scienze motorie Sono grande ufficiale Dopo aver preso Cavalierati ufficiali Comendatore Eccetera Sono ben visto All'estero Io Ho così Di buste Dell'estero E sai Quante italiane Sono in tutto questo In cento Due Una Io penso Che in Italia Ti amiamo molto Sì La maggioranza Silenziosa Vuol dire Le persone Silenzione Ecco Perché se no Dicono Ma chi crede Nessere Del capo Della maggioranza Fa un partito Domani Fa un partito Mi dispiace Che in un'intervista audio Non si possa far vedere Quel gesto meraviglioso Che quando io Ho introdotto la Fiat Lui Con le mani Ha detto Stringi Perché Non c'è bisogno Di troppe parole Però Dino Ti voglio dire una cosa Per come sei Sei tu E per come sei stato tu È un miracolo Che Nel mondo Dell'effimero Tu ce l'abbia fatta A questi livelli Eri completamente Fuori moda Ma già da ragazzo E ti sei imposto Con quello che dici tu I numeri Le cose La verità È miracoloso Io lo trovo Starordinario Maledizione Mi sono perso Una cosa Che ti volevo chiedere Molto importante È una bugia Forse è una bugia Forse è una bugia Vino grazie Infinito No 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 Se voi parliamo Perché sei adesso Siccome dicono Che non parlavo mai Adesso Possiamo andare Fino a domani Ti chiedo Ti chiedo due o tre cose Sul talento Tu ne hai avuti tantissimi E alcuni Anche da allenatore Ne hai avuti Non sono stati capaci Di esprimersi Per esempio Paul Gascoigne Paul Gascoigne Ho sempre avuto Invidia per gli artisti Perché il portiere Che cavolo dici Non inventa niente Deve solo parare L'invenzione Degli altri E quindi Gli artisti Li ho sempre invidiati Sivoli Eccetera Gascoigne Era un artista Proprio un pazzo Scatenato I pazzi Sono anche simpatici Solo che lui Aveva tutto All'eccesso Dalla simpatia La matisia La volgarità Anche da handicap Sai quel personaggio Il fumetto Il fumetto Era tutto Tutto in cinque minuti In dieci minuti Era eroe Robusto Forte Bugiardo Coniglio Tutto in dieci minuti Mi faceva diventare mato Perché poi dopo Si buttava male Capito Sempre Non a posto E quindi Si è mangiato La sua arte In fondo Però Faceva delle cose Stratosferiche Un giorno lo convochi Per la partita Lui scappa dall'albergo Si ripresenta No 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 Te lo dico Questo è chiaro Raccontamela bene Per favore Allora Te lo raccomando Noi andavamo In un alberghetto pubblico Quando giocavamo In casa A Roma Andavamo qua Il sabato Dopo l'allenamento Andavamo al cinema A mangiare La domenica Si mangiava presto E si andava allo stadio E allora Tutti lì Arriva alle sette Il sabato Mi dice Mister Io casa Adesso Parlerò come parlavo con lui Tu casa Allora se tu casa Io casa Loro casa Perché poi parli Come loro Non è che Anche per farti capire meglio No no Perché È arrivata Seril È arrivata Seril Sì è arrivata Seril Ma tu domani Seril Cinque ore Poi Seril No no Io casa Io casa E allora Come io sapevo Che andava Se tu casa Tu Tanto Tanto domani Tu non giocare Tanto Non giocare Spesso Perché male No Perché veramente Si faceva male Un po' Tu non vuoi giocare domani Vai a casa Semplice No no E allora Lui va a casa Siamo L'indomani Domenica Alle undici e mezza Che Eravamo ancora a tavola Perché si mangia un po' Presto Perché si giocava alle tre Certo E c'erano un po' Di dirigenti Io La squadra Si era più o meno Alzata A un certo momento Nel ristorante Apre la porta E c'è lui Nudo Ma non nudo Con gli slip O con le calze Nudo E mi dice Mister Detto mi voleva No tempo vestirmi Guarda L'avrei Una trovata così Per me Che non ho inventato Mai niente L'avrei fatto giocare Proprio Ma proprio Non farlo giocare Mi è costata L'ira di Dio Perché Una trovata così È fuori Dalla mia Cabezza Hai capito Quindi è una trovata D'artista E quindi L'avrei fatto giocare E che Non potevo Insomma Tu vai a casa Eccetera Poi non posso farti giocare No Se no Vai in vacca tutto Guarda Per dire Era questo Bello Questo racconto Bellissimo Ma nudo In ristorante Non è Non è che era Arrivato qua E si è messo lì Era A porta del ristorante Nudo Proprio Quanti altri ne hai incontrati Come Gasconi L'unico L'unico Unico Matto Così Capito Come lo racconteresti Berzotto Berzotto Lo racconterei Come L'uomo Un uomo Che ha portato L'esercito A vincere E che viene a casa Che invece Arrivano quelli Che l'hanno mandato A vincere Che festeggiano E lui è in seconda fila Che poi ha combattuto Per andare Perché quelli Non vogliono mandare lui Hai capito? Non ha avuto Quello che meritava Semplice Perché era Era Di un'onestà feroce Vabbè Quindi Paura di niente Dispiaciuto Proprio per l'uomo Insomma Cazzo Ho vinto I mondiali Non è che Ha vinto Il trofeo Della birra Quindi In Argentina Fece bene Comunque La squadra Ci riuscì Eccetera No no Tutto Tutto Tirare fuori La squadra Portare Rossi Il coraggio Di portare Rossi E Zoff Rossi Appena squalificato E Zoff Che non ci vedeva Per i grandi soloni Certo Eri cieco addirittura Tu Dopo il mondiale 78 No Di gestione di diottrie No cieco Proprio Ti mancavano le diottrie E quindi Insomma Portare avanti Un bagaglio Così pesante E vincere E lì Perché è facile Portare avanti E non vincere Ma vincere Vincere in quel modo Incredibile In quel modo lì Io penso che il mondiale 82 Rimarrà No no Ma non solo per i gol Fatto in sua azione Rimarrà Il nostro Il mondiale Poi è capitato tutto Come un finale Male 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 E poi Il trionfo Insomma Se tu volevi farla Era un film Non potevi farlo così bello Sandro Pertini Si alza Dice Non ci prendono più Accanto a Re Juan Carlos Di Spagna E poi ci sono Alcune foto Straordinarie Sul volo Che vi riporta Roma E tu fai La famosa partita Scopone con Pertini E come va quella partita Perché qualcuno sbaglia No beh Ha sbagliato il presidente Che me l'ha detto Qualche tempo dopo Dicendo Ma vorrei farla Questa partita Eccetera Ma no no Poi dopo le carte Già Tolgono Tutte Uno presidente L'altro Dottore A carte Si appiana tutto Si appiana tutto Hai capito Quindi Naturalmente Come erano le coppie Tu e Pertini insieme Io Pertini E Causio E Berdotto E quindi Allora era la discussione Su Che ha sbagliato Sì Che uno ha ballato Il setteciucco Come si dice Beh insomma E lui L'ha lasciato passare Ma insomma Ti piaceva Pertini? Eh sì Ma è chiaro A me piacciono Quelli che sono chiari Non devo pensare Quello che Che tu pensi Tu hai detto una cosa Molto bella prima Io non sto da nessuna parte Ti ricordi? In un passaggio A casa tua Ogni tanto si leggeva Famiglia Cristiana E ogni tanto l'unità Tu padre Mario Le leggeva Tu sei mai stato Politicamente Interessato? Sempre Ah sempre Sempre Interessato Non di parte Interessato a tante cose A tutto Sempre Poi dopo certo Mi faccio la mia La mia idea Però sono Sono interessato È vero che ti piacevano Le canzoni di Francesco Guccini? Sì È un mio amico Ci siamo Conosciuti Varie volte Dice quella cosa Molto bella Guccini La grazia È il tedio a morte Del vivere in provincia Tu ti senti un provinciale? No Io mi sento paesano Perché poi Il paese È il paese Perché sono Il paese È anche i rioni Di una grande città È un paese Ma sei mai tornato A Mariano del Friuli? Caspita Purtroppo È un po' Di tempo Che non ci vada Un po' Per il covid Per tutte quelle cose No No Insomma Sono uno sradicato Un'apolide No Apolide no 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 Apolide Apolide Non ti piace? Non mi piace Apolide proprio sei del mondo E non di nessuno Invece io sono friulano Dicono di te È un podcast di Cora News Prodotto da Cora Media E Tender Stories Io sono Malcom Pagani La cura editoriale È di Francesca Milano La supervisione del suono E della musica È di Luca Micheli La post-produzione In montaggio Sono di Lucrezia Marcelli Le registrazioni in presa diretta Sono di Lucrezia Marcelli Il producer È Alex Peverengo Laudiova 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 Grazie a tutti.